A Bologna arrivano l'arte e la cultura di Taiwan. La mostra è giunta alla quarta edizione visitabile fino al 30 agosto nella Sala Ercole di Palazzo d'Accursio. Una mostra importante che ospitiamo nel nostro palazzo comunale. Si tratta di due esposizioni con artisti che provengono da Taiwan, sia di arte contemporanea che tradizionale. Un'occasione per celebrare insieme un'amicizia che viene da lontano perché i cinesi presenti nella nostra città arrivano in Bologna nel 1928. Per noi è un grosso piacere poter tornare a mostrare al pubblico di Bologna questa importante collezione di arte contemporanea di Taiwan. Questa volta, la prima metà di agosto, abbiamo otto artisti contemporanei. La sua opera è molto interessante, che include carigrafia, arazzi cinesi e anche le arte contemporanea, anche i ritratti. Quindi spero che vengano numerosi il pubblico bologna che so che sempre amano l'arte, amano la cultura e amano le cose belle. Qui noi da anni organizziamo tanti eventi culturali qui in città e poi noi portiamo tanti artisti, ballerini, musicisti. Anche venire tutta l'Italia, faccio un'è, partecipando al festival, sempre per promuovere la cultura e il cambio culturale. Grazie. 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 Grazie.